Siamo dunque dall'indagine Oro Nero sull'esalazione alla raffineria Api di Falconara Marittima scattata dopo un incidente nell'impianto nell'aprile 2018. Indagate 18 persone per reati ambientali e amministrativi, l'associazione Onda Verde e oltre 100 persone del Comitato Malaria sono pronte a costituirsi parte civile nell'eventuale processo. Un atto dovuto scrivono per riaffermare il diritto alla vita e alla salute. Nel 2018 un migliaio di cittadini si erano recati alla locale tenenza dei carabinieri per denunciare quanto stavano respirando. Ricordiamo anche che Api Raffineria dopo la recente chiusura delle indagini ha raspinto ogni addebito e proprio oggi l'ARPAM nel sapere del coinvolgimento del proprio ex direttore generale Marchetti ha sottolineato la terzietà del proprio ruolo.